Con la lingua di fuori e i muscoli a pezzi l'Ancona torna in testa al campionato. Un cuore grande così ridà ai Dorici il punto di vantaggio sulla fermana a due giornate dal termine e soprattutto la vigilia della tanto agognata sosta. L'1-0 inflitto al Real Metauro al Mancini di Fano è risultato pesante in una serata tribolata nella quale quasi metà squadra finisce coi crampi e gli uomini di Manuelli provocano qualche brivido intorno al novantesimo. Si parte con un ritmo soddisfacente che però nel primo quarto d'ora non produce tiri in porta. Il primo verso lo specchio avversario è scoccato da Marani da 30 metri. Recchi osserva che la palla sfili sul fondo. La risposta dell'Ancona non si fa tendere. Genchi manda in porta Nardone che scarica un destro secco a colpo sicuro. Bacciaglia è determinante nella deviazione in corner. Poi Pesaresi sfrutta la mattonella su punizione ma stavolta la prodezza non gli riesce. Ancora Marani sempre da 30 metri. Calcia di sinistro. Recchi è attento e blocca in due tempi. Allo scadere il primo tempo si infiamma. Al 45esimo Marani libera Rondina che entra in area e carica al destro. Arcolai si immola e salva Recchi. Poi nel calcio si sa. Vige la regola non scritta del gol sbagliato gol subito. Accade anche alla Real Metauro che al secondo e ultimo minuto di recupero capitola su un'azione insistita degli Avanti Dorici e conclusa da Cercaci con un tiro su primo palo. Il vantaggio ottenuto al riposo allenta la tensione negli uomini di Lelli. Alla rientro in campo il controllo della partita non è in discussione anche se l'Ancona ci mette una ventina di minuti per tornare a farsi pericolosa dalle parti di Bacciaglia. Il compito spetta a Santoni che stoppe e drivola due uomini prima di scaricare un missile che il portiere Metaurense devia in corner. Sempre Bacciaglia accompagna sul fondo l'ennesima pennellata di Pesaresi su punizione. E poi è fortunato quando Tallevi salva in angolo la velenosa conclusione di Nardone imbeccato da Genchi. Il raddoppio non arriva e la stanchezza toglie energie. Il Real Metauro prova ad approfittarne e nel finale sfiora il clamoroso pari in 60 secondi. Prima Lucchetti calce in area di rigore colpendo in pieno il baluardo Arcolai. Poi sul proseguo Rondina al volo di sinistro mette una palla che attraversa tutta l'area piccola senza che nessuno arrivi per il tapin. L'Ancona sulle ginocchia è salva. Torna prima e un'ora così anche mister Marco Lelli.